12 mila di ferma settimana scusami un giorno adesso adesso una settimana bisogna poter durare 22 e due e due e mezzo da due e mezzo vanno in covo ha vinto laker ma l'avete per sagare che c'era uno strano sa che prendo sta cassa al fly e dentro arrivo giù a di amere termico ci sta effettivamente parlando si 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 che non è il costumente di amere termico non è una cura per me aspetta l'impulcione se vuoi ti aspetta per i barili falli 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 c'è uno c'è uno c'è uno arrivo giù arrivo giù era ciccio questo sa che arrivano cari no 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 passato passato anche arrivando subito ma perché ora dico non è tutta rosso è anche una volta di ma è tutto pagato sto posto lo avete provato il kit allora perché non ce ne guarda da me da me matti tanto ancora ancora trovato ci metto due dove è sotto mattina le croste box cosa ne zaccino ho sentito che c'è un bordello qua ti giuro ho detto che le croste che senso quando amici un po' di eri ma rifiutiamo rifiutiamo guarda quando vengono adesso è finito il giro si si anche io questo game poi basta vabbè penso un po' tutti niente vabbè sei buildato vabbè la tua zia un'inaighe 25 sono anche sotto di me guarda qua un po' e quello lì sarà boxato ho fatto 50 quelli là è scelto in faccia marty arrivo arrivo 100 ha uno di vita sto correndo sto correndo sto correndo sto correndo non c'è non c'è ho bisogno di pure white ne hai? no solo big e mini è uno qui sotto dobbiamo pusharlo? prova a generare di impulso non so dov'è a dove è? arriva l'altro marty occhio guarda guarda parla guarda guarda sono cercando di trombare mi ho zero vieni gi restaurant c'è tutto c'è tu hai tre di tre di prego guarda sopra metti la scala vieni giù vai vai io ce ho tre impulso dai slot vediamo la sua letra buone spesa buone buone guadva sei solo forse pure io no c'è il maggi che cosa non è mio non è mio sopra mi espando un attimo perchè don't trust this vado zilboss ne trombo uno mesi what? l'ho costitato ma palese proprio ti giuro stai rampando c'è uscito 99 ha la skin quella tipo tutta colorata 22 54 volato che chiamata l'ha tirato Martina oh scusami ecco ecco così è successo però l'ho bombato infatti come c'hai ora è come lui fai ora anch'io vabbè adesso ci sta c'è un motivo perchè vedete questa cosa? sì perchè lo sa che ho due norme su lei allora stiamo prendendo Livi potrei avere la serata sì e la serata no rischiamo? e allora io non mi prendo responsabilità vabbè rischiamo vai vabbè rischiamo c'è la vita bisogna rischiare ragazzi c'è il partito del shot e piano davvero è troppo forte eh dovrei avercelo già infatti ce l'ho già eh sì dallo pendolera oh sì guarda qua si stanno a tromba c'è gente con... guarda quello sta a brezzo c'è un altro abbassato white fate con il potere c'è uno che potrà giù pure dovrei jumparlo preciso oddio forse sì c'è guadagnina 30 white 30 white ahhh piano piano Mi cuore un secondo? Mi sono giudato, ora prendo la scuola e ti ritrovo in line Minchia, alle 4.23, in che scuola vai? In carcere! Ma è perciò lui via? Ah, vuole rebuttare? Sì... L'ha chiamato quella eh, Martin? Eeeh... io solo uno l'ho fatto, non so Lo facciamo arrestare? Sì dai, easy kill in volo, dai Ma ho messo tutto, guarda Non ho messo mai, ma ho messo tutto Lo libi, vai No, la vado di aeree, è più divertente Io vado di pompa Fa male, è una grandissima Ma è lui? Ma è lui? Era lui che sparava? Eh, sì, suppongo di sì Dove sta? Eccolo me Ah, da un 20K? Sto giro me lo intercetto Ma c'è a 10 Vai? Vado, vado Vado, vado God Prendi il G all'entro gioco per far più l'interno Eeeh, va bene, se non lo quello prendo Vado, non è che Nezak venga per essere di notte Nezak venga per essere di notte per fare altro Hai perso senza gambe No, ragazzi Ma perché volete dire queste cose? Mi avevo detto di non dirlo Ma perché quello sta là? Cioè, fa palestero di lui? No, no Prova... Prova ad aprire la porta Ma non ci arriva Fa... 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 Ha bloccato una stanza Non l'ha capita Martina No, perché stavo pensando un'altra cosa io Lui gli ha detto perché quello va imparassionato Ho detto perché provano ad arrivare la porta ma non ci arriva No, siamo prettissime persone raga Sei un cheater Uno sul pont 70 white unlock Ho fatto un bardello di danni sul pont Ok, ho preso un knock ma non so dove... C'è sotto il lutto Ok, sì Crack, adesso... No, ma nell'acqua son morto Ho anche non buildare? No, ma... Ok, no, sì, sì Build a build a vestire No, ti prego Attimo, che cosa sta dicendo? Apri acqua Il mattone non è mio, se lo aprono Ah, lo so Dai, ma son andato nell'acqua, son morto Martina No, no, per nulla, nulla, nulla Ci stanno? Vuotarlo, vuotarlo, vuotarlo Impulso Oh 155 Mi sono urpa e ci sono Bravissima Scaccatissimo No, no, no 40 white Guarda sopra Scaccato Nice Sparissimo No, no, no Scaccato 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 Vai Aspetta Guarda con il gel se vuoi Ma son di là che fanno, vai, vai, vai Non c'è due, non c'è prendo, ma... Madonna Oh mio dio Sono italiani, mi sono, te lo dico Ma te lo fai, Martina? Zero Finita Ok, no, due Tieno Non parmi che c***o che ho fatto Tu L'hai tirata? Fortissima Forco, due No, no, non l'hai tirata Ma come fai adesso così forte? No Ma facciamo due Ma se mi supplichi che ti metto in ginocchio Aia Con chi giochi in duo, Martina? Che cosa? Con chi giochi in duo? Hai riftato? Eh, con un mio amico Ma non lo conoscerai Si chiama Capibara Il 66, là, quello giù 150, quest'altro Bombe, 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 bombe Sei tu? No, non so Solo pompe, ci sono pompe, ci sono no 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 sono ancora qua sono ancora qua è uno qua da mai soldi del porco c'è tanto qua sono quelli che freman le bombe è in low? sta andando all'ultimo l'altro non buce stava mi si ferma dall'isola un polso quando vai vado 91 il pizzo bombate box è uguale nononononono 42 è uguale crazy wall tappato 200 arriviamo mother tracker 100 volevamo andare un po' in ragazzi ma a me da questa win mi risentava non 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 ma